Il Trento capolista ancora con 6 punti di margine sulla Manzanese cerca pronto riscatto dopo l'inaspettato stop di domenica sul campo di Sedico. Tutto è pronto, fischio del direttore di gara, è iniziata Trento Luparense. Entrambe le squadre stanno facendo fatica a trovare continuità, lo scambio con Belcastro entra in area di rigore a Liù, il traversone della stella, c'è una deviazione e la palla in rete ha segnato Liù, ha segnato Liù, Trento in vantaggio, Trento in vantaggio con la conclusione di Liù, c'è stata una deviazione sicuramente decisiva con Fraccaro che entra velocissimo nella traversone a centro area per Menato, decisivo con Tessa. La difesa della Luparense è molto molto alta, calcio e punizione, palla che intende servire a Liù, proprio così controllo di petto, la conclusione e poi c'è il gol! Il gol di Liù, meraviglioso controllo, una prima conclusione, la respinta da parte del portiere, poi Liù è stato rapido e un po' affortunato ma soprattutto dalla porta difesa a Cazzaro sul punto di battuta va la gran bordata e il gol! La gran bordata ha segnato il numero 3 forte che ha calciato teso fortissimo sul polo del portiere, Cazzaro probabilmente l'ha vista partire in ritardo, si aspettava probabilmente un calcio a giro di Finocco. Palla per Patarello, Patarello entra in area di rigore, va sul destro, la conclusione in diagonale e la palla fuori di un so... La formazione ospite perché sta dimostrando di sapere essere pericolosa. Magia di Pilastro che se ne va in mezzo a due dopo aver recuperato il pallone, break di Pilastro che poi apre per Belcastro, la conclusione di Belcastro che con una magia, Trento ancora in avanti, Galafini entra in area di rigore dalla destra, si allunga un po' il pallone, poi va a terra, calcio di rigore, calcio di rigore! Calcio di rigore per il Trento, sgroppata di Galazzini in area, fischia il direttore di Gatto, la rincorsa di Gatto, la conclusione, c'è la parata di Bacchina, ha incrociato il su menato ma resta in avanti l'upperesse con la palla in area di rigore per Florian, la conclusione Cazzaro è bravo, questa volta restare in piedi ancora in avanti. La porta, eccolo il movimento, la palla indirizzata invece a centro area, c'è un batti ribatti, palla per Trenotti, Trenotti va a terra, viene sgambettato in maniera piuttosto evidente. Cambia passo, si libera di Fracaro, ancora Galazzini che entra, supera tre avversari in area di rigore, Galazzini il traversone al centro, il rimorchio ai Caporali e la parata di Bacchina, la parata di Bacchina, rigore in movimento per Caporali. Per Galazzini, traversone rasoterra, Pilastro ha qualche difficoltà controllato, poi si gira bene Pilastro in area, il diagonale, il gol di Pilastro, il gol di Pilastro, il gol di Pilastro, Golasso Marco. Golasso bellissimo, un'altra sterzata, ne aveva già fatta una nel primo tempo quando poi aveva fatto un break dando una palla in profondità, qui ne ha fatta un'altra. Palla sul mancino, entra in area di rigore, Patarello, palla sulla corsa per Galazzini, traversone ancora all'indietro, c'è un contrasto, arriva calcio di rigore, un altro calcio di rigore. Il centrocampista del Trento avrà modo di rifarsi dopo aver fallito il calcio di rigore al 44esimo del primo tempo. Cambia, porta il di calcio, parte Gatto dagli 11 metri, la conclusione, il gol, bordata centrale, aspetta il movimento del portiere, conclude centralmente. E qui Marco, c'è stato un bellissimo gesto con Aliu che è andato a prendere il pallone e l'ha portato proprio a Gatto. Palla di resta un po' sotto ma c'è Galazzini, chi se non lui, Galazzini, sdallo in area di rigore, li salta tutti, traversone, palla ancora in gioco. Il traversone col mancino di Galazzini, la rovesciata di Aliu e la palla a lato di un soffio. Marini ancora c'è Ari, il traversone, la giotera in mezzo all'area, c'è forte tutto solo, ancora forte la conclusione, la respinta di Cazzaro, poi salva sulla linea tra i notti e palla tra le braccia di Cazzaro. Lato corto è l'area di rigore, il traversone di Aliu, palla, su primo palla, sciavoto il portiere, poi la palla, entra in rete, incredibile, tocca la traversa e non entra. E arriva a tre per il Trento che supera per 4-1 la Luparense e a questo punto possiamo dirlo, vola a più otto nei confronti della Manzanese.